Torna a Bari il TEDx e lo fa mettendo al centro le creature reali, immaginarie o a malapena immaginabili, umane e non, che popolano la nostra attualità. Parola portante, tema scelto per l'edizione 2024 della conferenza Spettacolo e Bestiario. Numerosi gli speaker italiani e internazionali che hanno accettato la sfida di parlare dell'argomento e che per farlo il prossimo 21 gennaio saliranno sul palco del Teatro Piccini che per la prima volta nella storia ospita l'evento dopo il Teatro Margherita e il Politeama Petruzzelli. Partendo da un'idea molto ampia di animale inteso come l'altro per eccellenza e nel tentativo di comprendere meglio noi stessi il tempo che abitiamo TEDx Bari 2024 vuole proporsi come momento di riflessione. Sono molto contento di poter annunciare che dopo quasi quattro anni torna il TEDx a Bari. Il giorno è il 21 gennaio 2024 e saremo al Teatro Piccini. Abbiamo svelato il tema che sarà appunto il Bestiario e abbiamo annunciato i primi tre speaker che saranno Caspar Anderson, Brunanzà ed Elena Testi. Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare sui nostri canali i biglietti e sveleremo tutto il resto del programma.